L'isola di Bouvet è un'isola vulcanica situata nel sud dell'oceano Atlantico, a sud-sud-ovest del capo di Buona Speranza in Sudafrica. L'isola è una dipendenza territoriale norvegese dal 27 febbraio 1930. È quasi interamente coperta da ghiacciai. Non ha porti né approdi, solo ancoraggi a largo, ed è difficile da approcciare. I ghiacciai formano uno spesso strato di ghiaccio che si getta con alte pareti nel mare o sulle spiagge nere di sabbia vulcanica. Il punto più alto dell'isola è chiamato Olavtotten e si trova a 780 metri sul livello del mare. La terra più vicina è l'Antartide, che si trova a 1700 chilometri a sud. L'isola Bouvet venne scoperta il 1 gennaio 1739 dal marinaio francese Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lossier. Comunque, la posizione dell'isola non venne determinata con precisione e Bouvet non circunnavigò la sua scoperta, così rimase incerto se si trattasse di un'isola o di parte di un continente. Egli battezzò il promontorio avvistato Cape della Circoncision e riferì che si trattava del primo lembo di terra del continente meridionale, ovvero l'Antartide. Essendo però quasi sempre coperta dai ghiacci e spesso celata da dense cortine di nebbia, l'isola non fu più avvistata da altre navi, o addirittura scambiata per l'enorme lastrone di un iceberg. Da lì a poco fu catalogata come isola fantasma. L'isola non venne riavvistata fino al 1808, quando venne individuata da un tale Lindosai, che era il capitano di una baleniera. Anche se non vi sbarcò, fu il primo a determinare correttamente la posizione dell'isola. Il primo sbarco risale al 1822, quando un certo capitano Morrell andò a caccia di foche sull'isola. Il 17 dicembre l'isola Bude e le acque territoriali adiacenti diventarono riserva naturale per decisione del governo norvegese. L'isola rimane disabitata, anche se una stazione meteorologica automatica vi venne installata nel 1977 dai norvegesi. Nell'aprile del 1964 la rompibiaccio della Royal Navy HMS Protector raggiunse l'isola per investigare su una nuova formazione creata da un'eruzione vulcanica avvenuta circa dieci anni prima. Non lontano da Neroisa, dove oggi sorge la stazione meteorologica, la spedizione, con a capo il tenente capitano Allan Crawford, scoprì una scialuppa abbandonata semi-affondata in un lago ghiacciato, con dei rifornimenti ancora a bordo. Nei passeggeri della scialuppa nei loro presunti corpi sono mai stati ritrovati. La quasi totale inaccessibilità dell'isola durante tutto l'anno, oltre al fatto che non vi siano rotte commerciali che comprendono un passaggio anche ravvicinato a Bouguet, resero questo ritrovamento un mistero a lungo irrisolto.